Patrizia Visinella, la Lega Nord ha cercato di migliorare questa riforma? Assolutamente sì e continueremo anche in aula a cercare di migliorare un testo che ancora non va bene sotto molti aspetti. Rispetto al testo iniziale del Governo siamo riusciti in commissione con il lavoro del relatore Calderogli che ha fatto davvero un lavoro brillante e sia con tutta l'attività emendativa che come Lega Nord abbiamo portato avanti ad apportare degli aggiustamenti in termini di salvaguardia delle prerogative delle regioni, questo però è importante, e principi di federalismo. Rimangono altri nodi aperti e su questo passo passo vedremo il dibattito in aula come andrà. Certamente non molleremo mai terreno, saremo sul pezzo sempre, su ogni articolo per cercare di migliorare ancora laddove è possibile questo testo. Noi siamo collaborativi e ci teniamo a fare delle riforme, delle riforme vere ma che siano riforme di sostanza. Basta proclami, annunci vuoti, anzi forse anche pericolosi, fatti solo per la fretta di Renzi che vuole propagandare dei risultati. Noi vogliamo veramente mettere in campo delle riforme che abbiano contenuto. In particolare che cos'è che non vi piace? Ma certamente innanzitutto noi vorremmo che ci fosse un nuovo senato delle autonomie che davvero rappresentasse i territori e la partecipazione popolare. Quindi per noi non ci impicchiamo sull'elezione diretta o indiretta ma preferiremmo che ci fosse la possibilità di un'elezione diretta e di un suffragio universale dei cittadini. Vediamo in questo senso che anche altri gruppi parlamentari stanno manifestando delle forti dubbi sulla elezione di secondo grado proposta da Renzi. Vediamo di migliorare il testo e anche su questo punto poter dare il nostro contributo. Ma soprattutto ulteriormente migliorare il riparto di competenze Stato e Regioni perché quello che ci preoccupa è un centralismo nei confronti dello Stato, di competenze prerogative che invece spettano ai territori e poi il principio delle risorse finanziarie che rimangono là dove vengono prodotte. Già aver costituzionalizzato i costi fa bisogno standard è stato un risultato fondamentale. Speriamo che mantengono questo principio in aula e quindi su questo vigileremo sempre.